Grazie a tutti. Se uno ha le prove in mano, Teddy, purtroppo, è inchiodato. Noi. A me ne è chiudato. È in prigione. Eh, mi dispiace. Ma lei è dichiarato in arresto. Ragazzi! Non so se no io, ragazzi! Vedi come? Ragazzi! Ma lì tra la schiena... Susina! Aiuto a me, Susina! Oh, mia no! Com'è in centrale. Ma io non dormivo! Dormivo, ragazzi! Venga con me in centrale. Stai con me in centrale, non dormi!